Cosa è una valutazione della paralisi cerebrale? Una valutazione della paralisi cerebrale determina quale tipo di paralisi cerebrale è presente osservando i livelli di sviluppo fisico, sensoriale, percettivo, emotivo, cognitivo e sociale della persona. Una valutazione è necessaria perché la paralisi cerebrale presenta un'ampia varietà di sintomi e non colpisce due persone allo stesso modo. Un piano di trattamento e gestione può essere formulato dopo che la valutazione della paralisi cerebrale ha determinato il tipo di paralisi cerebrale. La paralisi cerebrale è un effetto di una lesione cerebrale subita da un bambino prima che lui o lei abbia due anni. Ci sono quattro tipi principali di paralisi cerebrale. La paralisi cerebrale di atetoida e sintomi del movimento incontrollato e involontario. La paralisi cerebrale spastica si distingue per il movimento difficile e rigido. La paralisi cerebrale atassica provoca un senso disturbato di percezione della profondità e di equilibrio. Il quarto tipo di paralisi cerebrale è una paralisi cerebrale mista, che mostra qualsiasi combinazione dei sintomi degli altri tipi. La valutazione della paralisi cerebrale comporta l'osservazione del comportamento del bambino e la concentrazione su dove si trovano le limitazioni. Il bambino è osservato in diverse posizioni. I comportamenti fisici che il medico cercherà durante la valutazione potrebbero includere movimenti involontari, l'accuratezza dei tentativi del bambino di trattenere o rilasciare oggetti e parti del corpo che rimangono nella stessa posizione quando il resto del corpo si sposta su un'altra posizione. Oltre all'osservazione, la valutazione della paralisi cerebrale potrebbe includere test di sviluppo. Questi test possono includere la scala di valutazione prediscorso, il test di screening dello sviluppo di Denver e la programmazione dello sviluppo per neonati e bambini piccoli. La scala di valutazione prediscorso esamina il comportamento alimentare, la fonazione respiratoria e il suono riprodotto nei bambini di età pari o inferiore a due anni. Il test di screening sullo sviluppo di Denver valuta i ritardi di sviluppo nelle aree di sviluppo motorio grossolano e fine, linguaggio, comportamenti adattivi e comportamenti sociali nei bambini dalla nascita ai sei anni. La programmazione dello sviluppo per neonati e bambini valuta lo sviluppo motorio grossolano e fine, la cura di sé, sviluppo percettivo, linguaggio e cognizione nei bambini dalla nascita ai sei anni. È molto importante che durante la valutazione della paralisi cerebrale si dia un grande livello di benessere al bambino, a causa dell'età dei bambini durante la valutazione e della natura dei sintomi. La rivalutazione dovrebbe essere una parte continua del piano di trattamento. È anche importante valutare l'efficacia dei trattamenti.